La squadra a Veneta che ci fa sentire, si dice sempre che bisogna fare squadra, qui la squadra c'è. Tutti i sindaci compatti assieme alla Regione per difendere i territori e per fare in modo che le tasse restino qui. C'è anche una richiesta di sperimentazione. E' quella che io definisco autonomia a geometria variabile. Chi è bravo deve avere più competenze e gestire le proprie competenze e le risorse sul territorio e chi non è virtuoso deve essere controllato a vista da Roma, ma non è il nostro caso. Se non riesco a fare la prima volta. Il ricorso avanti la Corte Costituzionale e poi tutta una serie di misure e di azioni che difenderanno il nostro territorio. Abbiamo 4 milioni e 800 mila Veneti da difendere con tutte le nostre forze e prima, come diciamo sempre, vengono i Veneti e non quelli di Roma. Abbiamo visto un sindaco che si è già tolto la fascia tricolore, si è già messa quella con Leone e forse si è preso avanti, ma su qualcosa che potrebbe anche accadere in Veneto. E' un bel segnale pensare che comunque il segno identitario si lega fino in fondo. Non è un segno di contrapolizione, ma la volontà di dire che la nostra bandiera ha 1.100 anni di storia. E del resto tutte queste sollevazioni, tutte queste proteste non ci sarebbero se chi è a Roma avesse gestito in maniera federalista il Paese. La verità è che il centralismo ha penalizzato noi e avvantaggiato gli spreconi. Nei confronti dello Stato per avanzare però richieste forti? Beh, c'è una trasversalità che è unica. C'è una condivisione di intenti e di vedute e questo ci farà avere un fronte compatto rispetto a quello che è Roma, la Roma dei palazzi, la Roma che non capisce i territori, la Roma che considera il Veneto periferia dell'impero.